Siamo tornati in studio qui con me Domenico Menorello, lista Tosi per il Veneto, circoscrizione di Padova. Un ritorno il suo alla politica attiva, insomma, con dei ruoli, con un progetto specifico. Lei ha fondato Rete Popolare, ci spiega qual è il suo obiettivo e perché ha scelto Tosi? Abbiamo fondato Rete Popolare ancora due anni fa, assieme a molti amministratori all'epoca del PDL, convinti che si stesse andando in un binario morto. Serviva una formula nuova, più giovane, un ricambio della classe dirigente. Abbiamo fatto delle assemblee all'epoca con Oscar Giannino, Mario Mauro, gli amici d'Italia Futura, assemblee affollatissime e la prima assemblea a fine 2013 è venuto a salutarci Flavio Tosi, da sempre attento a quello che si muoveva nel mondo popolare moderato. E poi questa storia di popolari lontani dai palazzi che non credono nella demagogia, né in quella di Renzi, né tantomeno in quella lepenista di Salvini. Abbiamo fatto un bel percorso assieme a dei giovani, una scuola popolare, per imparare che cosa significa dare priorità alla persona, stare di fronte ad alcuni problemi, abbiamo parlato di sussidiarietà e famiglia, crescita, istituzioni. E poi abbiamo buttato giù alcune idee, 15 punti senza spendere per dare più libertà alla famiglia, al welfare, alla crescita, più lavoro, più autonomia al Veneto. E su questo percorso abbiamo incrociato Flavio Tosi. Ma un Flavio Tosi che già strizzava l'occhiolino ai moderati o siete voi che in quali, insomma Flavio Tosi comunque era Lega Nord, come si poteva trovare un avvicinamento tra quelle che possono essere delle posizioni dei moderati e posizioni invece decisamente più nette comunque a prescindere da Salvini che rappresentava la Lega Nord e quindi anche Flavio Tosi essendo un segretario nazionale. Beh, l'essere popolari e il popolarismo in Europa è essere autonomisti. Infatti noi abbiamo chiamato in questa scuola un rappresentante della CSU bavaresi, il vicepresidente della Baviera ed è stato bellissimo perché si è capito come una tradizione autenticamente radicata nella sussidiarietà tenga molto territorio, dia molta autonomia anche politica al territorio, ma non per staccarsi, ma per essere a servizio di un paese. La Baviera da ultima regione dopo la guerra è la prima regione e la trascinante della Germania e questo è un modello, quindi un sano autonomismo è nelle corde del popolarismo e poi con Flavio Tosi si è immaginato un percorso tipo francese, cioè Sarkozy cosa ha fatto? Non ha fatto l'ennesimo partitino, noi ne abbiamo una miriade di partitini nell'area che non è di sinistra e che non è di destra, farne un altro non serve a niente. Ha detto bene, ognuno tenga la sua storia, solo che ci mettiamo assieme, ci federiamo. La piattaforma civica di Flavio Tosi è il laboratorio di una nuova proposta per tutta l'Italia, dove tutti quelli che non credono né nel nuovo centralismo anche un po' autoritario di Renzi, né in questo marcato lepenismo di destra che non c'entra niente con l'Italia, di Salvini, tutti quelli che stanno in mezzo potranno avere una casa, essendo se stessi. Noi siamo qui dentro come popolari, come costituente civica dei popolari e dei riformisti, con questa nostra scuola, con questi nostri contenuti, molti dei quali sono stati ripresi nel programma di Flavio Tosi. Lei un po' incarna il proseguo di quelli che erano i valori iniziali di Forza Italia? Quel liberismo moderato? Sì, perché Forza Italia nasce con un grande sogno ideale, l'essere liberali e l'essere sussidiali, quindi la tradizione della dottrina sociale cattolica, la tradizione del liberalesimo messe assieme del tutto che si stimano, si compenetrano e dialogano a vicenda. Purtroppo poi la storia è degenerata nel potere, non nel solo potere, ma gli ideali non vengono o meno. Oggi all'Italia serve poter essere d'aiuto alla persona quando si aggrega nell'impresa, quando si aggrega nella famiglia, non un potere che stiaccia, un potere che libera. Qui ci sono alcune proposte molto belle, io credo, sulla famiglia, sull'impresa e sulla crescita. Quindi l'obiettivo del Consiglio regionale è per proporre una nuova entità politica che possa ricreare questo centro moderato che serve in Italia, secondo lei? Il centro è una parola bruttissima, serve una casa di chi crede che la politica sia servizio al bene comune, non sia demagogia, non sia urlare i problemi, sia dare delle risposte. Ad esempio sulla questione di questo Veneto trattato ingiustamente, noi abbiamo messo a punto l'unica strada percorribile. L'articolo 132 della Costituzione prevede che se tanti consigli comunali, quanti un terzo di una popolazione, domandano la fusione di più regioni, si va a referendum. Il Veneto può da solo, con i suoi consigli comunali, determinare il referendum per dire sì a un'unica regione del Triveneto. E allora ditemi, se due regioni a statuto speciale e una normale si fondono, per caduta abbiamo lo statuto speciale anche nel Veneto. Una proposta concreta, una strada concreta che si può fare da domani mattina, non sogni che non si faranno mai. Concretamente è finito il tempo a disposizione, ringrazio Domenico Menorello, gli statosi per il Veneto su Costituzione di Padova. Grazie e torniamo dopo lo stacco. Grazie a voi.